questo è un trasmettitore per auto di bluetooth che prende anche la radio nel stesso momento si può mettere solo un telefono diciamo un prodotto per collegare la musica allora arriva un cavetto aux di 3.5 con istruzioni in italiano che si possono far varie cose quindi io consiglio leggerlo è inutile spiegarlo adesso perché un po lungo poi questo è piegabile questo va negli accendi sigari qua uscita aux qua va micro sd scheragone se abbiamo musica su micro sd mettiamo qua queste cavetto con usb e qua possiamo pure caricare quindi qua che succede se ce ne possiamo ascoltarla radio avanti indietro per la nostra musica quando colleghiamo il nostro telefono quando riceviamo chiamati si sente bene non ci sono problemi volume quindi che dire io lo consiglio un oggetto carino piccolo al rapporto del prezzo la sua qualità è ragionevole